Sappiamo tutti che è una partita veramente importante per noi e per il club e i tre punti sono fondamentali per arrivare al primo posto e sicuramente dobbiamo dare il 100% perché loro non hanno la pressione di vincere e quindi possono giocare con soltezza e noi veramente dobbiamo concentrarti all'inizio della partita e soprattutto lì è sempre difficile giocare quindi non essere pronti. Sì, è un grande gioco per noi, vengono in loro, è un tuffo posto di giocare, ci stavamo lì prima in la settimana e non importa in quale stagione o in quale stagione, ci dobbiamo andare in e giocare il nostro gioco e spero di ottenere i tre punti in il primo posto. È importante avere il primo piccolo per la squadra di Finale e magari lasciare un po' più più semplice il primo gioco di Salzburg. Sì, se potessi sicurare il primo posto dopo il gioco qui tomorrow, sarebbe bello, prendere un po' di pressione dall'ultimo gioco per Salzburg, ma sono due due importanti e vogliamo vincere in due. E le Foxes stavano stagione dopo il gioco durante questa settimana e come era importante per la squadra di Champions Socceria qualificazione? Yeah, it was huge. We set up some goals before the season started and we wanted to accomplish some of the goals and we did accomplish some of those and Champions League was one of them. And then, like I said, getting first place is another goal of ours and then it doesn't stop there so hopefully we have a good playoff run. Grazie 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 a tutti